E' un momento di incontro tra le migliori aziende italiane e i giovani. Queste aziende sono alla ricerca di innovazione, ma spesso non sanno esattamente come muoversi. E quindi Farm prepara questo tipo di eventi in modo tale che le aziende possano incontrare i giovani che invece hanno tutte le skill e l'interesse per risolvere questi problemi. La cosa interessante è che si svolge tutto all'interno di un weekend, quindi pure 24 ore. Questi apps hanno tutti dei temi, per cui io sono andato all'App Fashion, ogni app ha un tema e ha delle aziende collegate, per esempio da noi c'era Bottega Veneta, Diesel, Lotto, quello che fa roba sportiva, e ogni azienda vi sottoporrà un problema che loro vogliono risolvere in maniera innovativa, in maniera digitale. La cosa più divertente è che voi probabilmente non conoscerete nessuno quando arrivate là. Io per esempio non conoscevo nessuno, ero da solo. Quindi cosa succede? La mattina si arriva alle 9, si presentano le aziende, vi dicono cosa cercano, con un brief. Dopodiché avete mezz'ora per rompere le scatole a tutti i partecipanti, l'altra volta neanche con 400-500, quindi si avranno dei braccialetti e se io ce l'ho ancora addosso. giallo marketing, blu, sviluppatori, rosso designer, si arriva lì, si controlla i braccialetti, per esempio io ho bisogno di sviluppatori, allora ho di designer, ci siamo messi così in giro a chiedere e a cercare, si formano dei team, così casualmente. Dopodiché si hanno 24 ore per sviluppare un'idea e la mattina dopo, alle 11, si conseguono i progetti e si deve presentare una del funzionante di qualcosa della vostra idea. Quindi finite le 24 ore, come adesso ci sono 400-500 persone che lo ascoltano, uno del team sarà in cattedra e fa vedere quello che ha fatto e quello che non ha fatto. conto avanti, per esempio il management delle aziende che sono lì appunto per vedere se qualcosa gli interessa.